buongiorno 21 dicembre 2013 si avvicina natale quindi c'è bisogno di regali siccome dei amici nostri cacciatori ci hanno cercato dei regalini noi faremo il babbo natale quest'anno io e l'amico mio giuseppe colaro sono presenti buongiorno ragazzi siccome da solo non ero non ce la facevo a fare questi regalini ha chiamato il mio amico per esempio una mano mi ha portato lui abbiamo fatto questi regalini qua questa qua la dedichiamo a giuseppe canino il nostro carissimo amico questa qua la dedico a gianluca rotondo un altro mio carissimo amico e poi giustamente questa qua l'amico agostino la di potricello come lui è una grande ferma di tex finalmente ha fatto contento colo quindi noi i regali per natale l'abbiamo fatto il nostro dovere abbiamo fatto pure adesso voi fate il vostro tanti auguri e buon natale grazie alla prossima ciao ciao